Buongiorno a tutti, io sono Lodovico di Incawe e questa è la Masterclass di Excel. Siamo arrivati alla terza parte, quindi quest'oggi andremo a vedere le istruzioni di tipo data, ora e unione del testo. Per fare questo, per visionare queste istruzioni, ho preparato un file che praticamente l'ho scaricato dalle guide di Microsoft dove possiamo appunto visionare queste funzionalità base che stanno alla base appunto della data e dell'unione del testo. Ovviamente questo file è scaricabile in descrizione a questo video per gli abbonati al canale. Allora andiamo a vedere come si fa ad inserire la data oggi ad esempio, io voglio andare in una cella, vedete qui c'è funzionalità di data, che cosa ho fatto? Ho fatto praticamente, o meglio la Microsoft ha fatto data odierna, quindi noi qua dovremo sempre far comprare la data odierna perché poi noi qui inseriremo manualmente la data del nostro compleanno di quest'anno e qui ci uscirà in automatico quanti giorni mancano al nostro compleanno. E poi sotto metteremo, faremo anche un altro tipo di attività, metteremo i giorni di tolleranza in modo da avere una scadenza della fattura che si basa sempre, so la scadenza della fattura in base alla data odierna che ho messo qui. Quindi molto semplicemente per sapere la data di oggi, in modo che Excel scriva sempre la data di oggi, faccio ovviamente un uguale e scrivo semplicemente oggi, vedete, restituisce la data corrente nel formato data, quindi oggi però devo fare aperta tonda, chiusa tonda. Se io faccio questa cosa qua e premo invia, oggi è il 25 del 4 nel momento in cui sto registrando questo video, quindi vedete che mi dà la data odierna. Se io adesso osservo il file, chiudo Excel e lo riapro domani, qui comparirà 26 del 4, quindi la formula è sempre dinamica. Questa formula qua in base alla data di sistema che c'è appunto in quel momento, lui mette la data che c'è appunto in quel momento. Quindi mettiamo il compleanno. Il mio compleanno è il 21 settembre, così vi ricordate magari di farmi gli auguri quando sarà ora. Quindi andiamo 20 e 21, vedete che sotto lui mi dice i giorni mancanti al compleanno. Come ha fatto questa formula qua? Semplicemente vedete che è stata fatta una sottrazione. Quindi proprio come i numeri io vado a fare una differenza tra due date, quindi se premo F2, ok, entro in modifica, vedete che mi seleziona queste celle qui, quindi fa questa data meno questa data e mi dà il risultato in giornate, perché sto sottraendo due date. Se io invece qua vado e metto i giorni di tolleranza, ok, sulla scadenza delle fatture, quindi ho una tolleranza magari di 10 giorni, vedete che qui va al 5 del 5. Quindi che cosa significa? Se io vado qui e guardo la formula, ho fatto praticamente la E6 più la E10. Che cosa significa? Se faccio F2, vedete, mi dice la E6 è il 25, quindi è la data odierna. Quindi sulla giornata di oggi ho una tolleranza di 10 giorni. Quindi io semplicemente vado ad aggiungere a questa data 10 giornate. Quindi come funziona la cosa? Se io ho due date e voglio avere l'intervallo tra le due date, faccio una sottrazione. Invece se voglio aggiungere dei giorni a una data specifica, faccio la somma. Poi vediamo, ad esempio, qui c'è un consiglio. Quindi se io cancello, ad esempio, il compleanno, vedete che mi dà un numero che non ha senso, perché la data, quando non viene applicata, praticamente lui prende il primo gennaio 1900. Quindi che cosa significa questa cosa qua? Che io devo gestire questa cosa, perché se non ho messo la data, voglio che qua non compaia niente. Quindi possiamo utilizzare la funzione se che poi approfondiremo nelle prossime lezioni. Quindi se io vado qua e gli dico, guarda, gli metto una condizione, gli dico uguale se, anche qui le formule sono sempre in italiano, se, scusate, vado qui e gli dico, guarda, se questa cella è uguale a vuoto, quindi non c'è niente, allora metti vuoto. Altrimenti mi fai, clicco qui, meno questa cella qua, e chiudo la tonda, ok? Così facendo io faccio un test per vedere se la cella è compilata. Quindi se non è compilata, restituisco il valore nullo, quindi bianco, blanca. Altrimenti compio l'operazione di sottrazione. Se faccio invio, vedete che adesso non compare niente. Ma se io metto la mia data, 21, 09, 20 e 21, ecco che compare la data corretta. Quindi mancano 149 giorni. Poi vediamo che qui ci fa vedere appunto il formato, no? Perché appunto spiega che mantiene le regole di data e ore in base al numero di giorni a partire dal 1900. Se noi andiamo qui nella data e facciamo tasto destro, formato cella, oppure ci mettiamo qui e premiamo CTRL più 1, si apre questa pannellina e vedete che la cella è stata formatata in formato data. Tant'è che qui possiamo anche decidere di avere un altro tipo di formato. Posso dirgli anche, guarda, fammi vedere, il giorno, praticamente in testo, il giorno in numero, il mese e l'anno esteso. Vedete che poi se io qui allargo compare appunto la data in formato esteso. Quindi qui potete giocare con la formatazione. Però sotto ci sta dicendo, guarda che magari la cella è formatata in tipo numero, ok? E quindi se l'ho formato in tipo numero mi esce praticamente questo numeretto qua. Questo qui è la data di riferimento al 5 maggio, perché lui va a contare appunto da questa data qua il numero di giornate. Quindi se vedete questo numero quando mettete una data, semplicemente andate in formato cella e la formate in tipo data con il tipo di formattazione che volete appunto andare a visionare. Perfetto, andiamo sotto, andiamo a vedere le ore. Quindi abbiamo visto che praticamente con oggi noi otteniamo la data odierna. Se invece voglio ottenere l'ora odierna, faccio uguale, scrivo adesso. Io voglio sapere adesso che ora è. Quindi scrivo adesso e premo invio. Ecco che qui compare appunto l'orario di riferimento. Se vengo qua, faccio F2 e premo invio, ecco che vedete che cambiano praticamente i secondi, perché la trova sempre, la rileva dall'orario di sistema. Vediamo un esercizio sotto per capire anche una funzionalità aggiuntiva. Queste sono le ore giornaliere lavorate, quindi ipoteticamente abbiamo un orario di entrata, un orario di uscita, quindi abbiamo qua i due intervalli di entrata e di uscita. Però abbiamo anche una pausa a pranzo, quindi abbiamo l'uscita la mattina alle 12 e rientro alle 13. Quante ore abbiamo lavorato? Per fare questo basta fare una somma abbastanza semplice. Quindi se facciamo F2, che cosa fa? Vediamo che scrive E35, che è l'orario di entrata, meno l'orario di uscita. E qui otteniamo 9 ore, perché dalle 8 alle 17 abbiamo 9 ore. Difatti se ci puntiamo qui, mettiamo, sottolineiamo questa formuletta qua e premiamo il tasto F9, lui ci restituisce questo numero, che è il discorso che facevamo sopra. Io qua non vedo per le date e per le ore il risultato esatto. Lui ci riporta sempre un numero, lui calcola sempre tutto con i numeri, quindi qua in realtà comunque sono 9 ore. Dopo capiamo la differenza di questa cosa qua. Poi che cosa fa? Fa meno, praticamente fa le ore 13, ok? Meno le ore 12, così lui trova che praticamente qui risulta un'ora. Se faccio F9, anche qua ottengo questo risultato qua, che praticamente corrisponde a un'ora. Ok? Dopodiché, ok, fa questa cosa qua, fa questo meno questo, così ottengo 8, ok? E poi lo moltiplica per 24. Perché lo moltiplica per 24? Adesso premiamo ESC per non mantenere i valori che abbiamo visto. Se io tolgo il 24, ok, vedete che lui mi dà effettivamente l'orario, che può essere giusto vederlo così. Io so che qui sono 8 ore, no? Tant'è che se qui scrivo 13 2.30, mi dà 7 ore 30, perché ho fatto un'ora e mezza di pausa, ok? Però se io scrivo per 24, ok, essendo che qui se noi andiamo a vedere, praticamente facciamo F2, e sottolineiamo la formula, facciamo F9, ok, il risultato è 0,31,25 in realtà. Quindi questo 0,31,25, se vado a formatarmi la cella come orario, ok, mi esce appunto l'orario. Se lo formatto come numero, vedete che compare praticamente il 0,31,25 che dicevamo prima, adesso è formatato a due decimali, ma se lo aumento, vedete che è 0,31,25, quindi il numero, ok, di risultato dell'orario è 0,31,25. Questo corrisponde praticamente alle ore 7.30. Quindi se io voglio però non gestirmi il formato e voglio ottenere il numero di ore, ok, ma non in formato numero come lo vediamo prima, ma proprio l'ore, vado quassù, ok, e lo moltiplico per 24, che è il numero delle ore della nostra giornata. Ok, facendo così, adesso ho fatto una formatazione forzata, ok, metto il numero, mettiamolo, formatiamo il numero, ci dice che sono 7 ore 50, quindi non ho più le 7 ore 30 perché l'ora è da 0 a 60, ma lo trasformo in decimali, quindi ho appunto, ho appunto le mie ore trasformate, quindi 7,50, 7,50, è la mezz'ora, così ho le ore formatate in questo modo, piuttosto che con le ore formatate come le vedete sopra. Quindi basta moltiplicare appunto per 24 per ottenere il risultato in numero, però con le ore espresse appunto in un altro modo. Ok, e ovviamente avendo questo numero poi potete fare calcoli differenti, quindi questi sono i giochi che potete fare con le date e le ore. Perfetto, passiamo all'unione dei testi e dei numeri. Eccoci qua, allora vediamo subito come si unisce un testo, è estremamente semplice questa funzionalità, quindi noi abbiamo queste combinazioni qua e qua vediamo già due formulette che funzionano molto bene. Praticamente se andiamo a visionarla, facciamo la F2, facciamo anche un po' di zoom, lui che cosa dice? Guarda, mi prendi il contenuto della cella D3, ok, che è questo, Panicucci, e AND, quindi si preme appunto il tasto maiuscoletto più 6 della tastiera, così scriviamo l'AND, quindi concatena questo valore, con che cosa? Apro le virgolette, faccio una virgola, faccio uno spazio, chiudo le virgolette, così io andrò a prendere il valore che c'è su D3, lo concateno con questo testo che ho scritto io, che è sempre uguale, chiudo, quindi quello che c'è dentro le virgolette è il testo, la stringa, ok, e lo concateno di nuovo con il risultato, con quello che trovo sulla C3, con questa cosa qua, quindi se noi andiamo appunto a premere invio, vediamo che lui fa Panicucci, che è questo valore qua, virgola, spazio, che è quello che noi abbiamo messo come stringa, e poi scrive Olga, se vediamo l'altra formula fa praticamente la stessa cosa, però non c'è la virgola, difatti se facciamo F2, vediamo che il concetto è lo stesso, solo che prima mi prendo il contenuto di C3, che è questo, Olga, poi faccio un concatena con l'end, faccio uno spazio, ok, quindi sempre con le virgolette faccio lo spazio, end, e metto D3, ecco che ottengo appunto il mio risultato, ovviamente io potrei anche dirgli, guarda fammi questo, end, l'altra cella, se faccio così ovviamente lui mi scrive tutto attaccato, quindi sempre attenzione, quando fate appunto le virgolette, potete fare anche spazio, tartino, spazio, virgolette, end, ecco che andate a mettere del testo aggiuntivo, sulla concatenazione di stringhe, perché questi sono testi, ok, questo è per fare la concatenazione di stringhe, bene, ora andiamo a vedere come si uniscono le date e i numeri e i testi, quindi vediamo un esempio, qui ad esempio ho usare test e i numeri, quindi qui ho la data odierna, che è questa cosa qua, difatti qui se faccio F2, vedete io ho scritto oggi, così ho sempre la data odierna, e sotto ho preso adesso, che è quello che abbiamo già visto, se noi andiamo e ripetiamo l'operazione per come l'abbiamo vista sotto, vedete faccio F2, e gli dico guarda fammi la C28, ok, che è questa, end, mi fai uno spazio, ok, quindi mi fai data odierna, due punti, spazio, l'ora che c'è qua, di 28, vedete che compare 44, 3 e 11, perché lui sta scrivendo un risultato di tipo testo qui, no, quindi mi sta facendo data odierna, e mi estrae il numero che sta sotto a questa data, perché? perché è formattato, cioè sotto la data c'è un numero che è quello che vi accennavo prima, se lo faccio con l'orario e vado su adesso, io quando scrivo adesso qui, mi compare sì l'ora, però in realtà se io vado a fare anche formato a cielo, oppure faccio CTRL 1, e vado qui e metto ad esempio data ora, quindi vado a selezionarmi la data e l'ora, ad esempio questo, vedete che in realtà compare la data di oggi, quando io scrivo adesso ho sia la data che anche l'ora, invece l'adesso, quando voi lo scrivete comunque di default, va a formattare l'orario, in modo da farvi vedere solo loro, quindi dentro ha il formato celle, lui che cosa fa? vi mette ora in automatico, però in realtà sotto c'è anche la data, ok, odierna, quindi tant'è che quando voi andate qui, e fate la formula di C29 più D29, che sono queste due celle qua, lui fa vedere anche la data, perché sotto qui c'è un numero che è data più ora, la data virgola, praticamente l'orario che sta sotto sulla giornata, quindi vedete che non è quello che vogliamo ottenere, quello che vogliamo ottenere è esattamente questo, quindi come si fa a fare questa cosa qua? Bisogna convertire il valore di D28 nel formato che noi vogliamo andare a vedere, quindi andiamo a fare con la funzione testo, la conversione del formato, in modo da vederlo nel modo corretto, quindi si fa C28, che è come sempre la cella testuale, che abbiamo già visto prima, poi faccio uno spazio, quindi con cateno, e faccio uno spazio, ovviamente voi qui non serve che l'end lo mettete vicino, potete anche fare degli spazi, a lui questi spazi che mettete in mezzo non interessano, ok, poi facciamo uno spazio, e poi usiamo appunto la funzione testo, che cosa ci dice la funzione testo? dobbiamo dirgli, vedete, lui ce lo suggerisce, metti il valore, ok, e poi mettimi il formato, di come vuoi ottenere questo valore, quindi gli dico, guarda che io voglio avere il risultato di D28, ok, che è questa qui, in giorni, slash, mesi, slash, anno, se vedete, poi lui mette appunto la data come ce l'aspettiamo, se io vengo qua e ci tolgo lo slash, vediamo che cosa succede, vedete che lui mi mette la data senza gli slash, ok, voi potreste dirmi, no, poi sotto ovviamente con l'orario è la stessa cosa, qui gli dico, guarda fammelo vedere, in H, vedete che mi fa vedere le ore, H, due punti, minuti, anche qua ovviamente io potrei dirgli anche trattino per dire, no, e io vedo 11 e 10, che sono ore e minuti, ovviamente se io qua metto i due punti, è ovviamente più comprensibile, adesso sono le 11 e 11, se non conoscete i formati da mettere qua, molto semplicemente che cosa potete fare, CTRL 1 oppure tasto destro, formato celle, e andate giù su personalizzato, quindi qui vedete che praticamente compaiono tutti i formati personalizzati, ce ne sono molti altri e ve li potete anche inventare in base a quello che dovete fare, però adesso per ora rimaniamo nello standard, vedete che qui se cerco trovo ad esempio ggmmaa e sopra lui mi fa vedere praticamente se io vado ad esempio in questa cella qui dove c'è la data, vado in formato celle, faccio personalizzato, qui mi fa vedere il risultato che viene in base a quello che io vado a selezionare, vedete se faccio questo mi compare questa cosa, se faccio questo mi compare questa cosa, quindi anche qui noi possiamo andare a giocare con i formati e vedere quello che otteniamo, quando l'abbiamo trovato noi andiamo qui su tipo, ci selezioniamo questo formato qua che è il formato che viene applicato a questo risultato, e semplicemente andiamo nella nostra bella funzione che abbiamo creato, e dopo poi in restituzione di formato facciamo un bel CTRL V, e mettiamo il formato personalizzato che però abbiamo visionato all'interno di formato celle, così se non li conoscete da lì potete iniziare a capire un po' come funzionano questi tipi formati, ovviamente ce ne sono tantissimi anche su quelli che vedete sul personalizzato non sono tutti, però insomma sono buona parte di quelli che ci sono, poi ovviamente questa cosa qua quando capirete meglio come funziona potrete andare a personalizzare ulteriormente il formato, piuttosto che ve li potete andare ad inventare, come vi facevo vedere prima, al posto dei due punti mettete il trantino e in quel caso vi siete inventato un formato casto. Bene direi che anche con questa lezione è tutto, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like al video se è stato di vostro gradimento, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e magari pensate ad abbonarvi al canale se vorrete sostenere appunto la crescita continua e il mantenimento di tutte le risorse in modo gratuito per tutti. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!